A Girda Re che ci prepari oggi De Bonauro? Oggi parmigiana in pasta sfoglia! Mamma mia! Cominciamo Girda Re. Ecco, mettiamo un po' di formaggio spalmabile sulla pasta sfoglia. Allora, questa è una tazza di polpa di pomodoro che ho cotto con olio, sale e aglio. Ecco, queste sono due melanzane medie che ho fritto con poco olio. Rimettiamo un po' di salsa. La mozzarella sono 200 grammi. Un altro giro di melanzane. Mamma mia, rega, io già ho fame qua. Ecco qua, un altro giro di mozzarella. E adesso sigilliamo bene. Adesso una spennellata d'uovo. E una bella manciata di parmigiano. E adesso a forno caldo 180, appena mezz'oretta e 40 minuti. Vai! Eccola qua, appena sfornata, calda calda. Eccola qua, guardate un po'. Tiè, mamma mia, raga. Non potete capire che cos'è. Lo spettacolo. Una favola, una favola. Mamma mia. Com'è, Girdarè? Fatela perché è buonissima. E piatto ricco? Eh, mi ce ficco. E' buonissima. E' buonissima. E' buonissima.